Salve a tutti, benvenuti in questa brevissima e molto sintetica lezione riguardante la rivoluzione russa. Iniziamo con l'antefatto. L'antefatto è la volontà da parte dello zar Alessandro II di trasformare la Russia in una potenza industriale e militare, rendendosi conto evidentemente che il suo enorme paese è sostanzialmente indietro da un punto di vista tecnologico, industriale e economico rispetto alle altre potenze a lui vicine, soprattutto quelle europee. Allo scopo di raggiungere questo obiettivo nel 1861 abolisce la servitù della gleba, sappiamo di cosa si tratta e lo fa per incentivare la produzione industriale. Quindi liberare forza lavoro affinché questa, dalle campagne dove si pratica un'agricoltura ancora sostanzialmente primitiva, possa spostarsi nelle città e quindi lavorare nelle fabbriche che però non ci sono. In Russia è assente una classe media borghese, tanto più una classe media industriale e quindi l'industria è di stato e quando l'industria è di stato è dall'alto, come abbiamo molte volte detto, è un'industria di tipo pesante, e quindi improntato alla guerra, infrastrutture, siderurgia eccetera. La prima prova che la Russia si trova, questa nuova Russia, questo nuovo modello industriale militare russo con cui si trova a confrontarsi, è la guerra in Manciuria contro il Giappone del 1904. La Manciuria, questa regione al nord della Cina che è appannaggio, è l'obiettivo militare strategico sia della Russia che del Giappone, diventa appunto teatro di scontro tra queste due potenze. La Russia, a quanto sappiamo, credeva di poter sbrigare questo conflitto in modo abbastanza veloce contro questo modesto, piccolo e sconosciuto paese che è il Giappone, ma viene sconfitto. Questa sconfitta avrà delle repercussioni economiche, sociali piuttosto gravi, che porterà nel 1905 una lunga ondata di proteste, soprattutto nella capitale, a San Pietroburgo, con ondate di scioperi che porteranno a vere e proprie occupazioni delle fabbriche e alla nascita dei cosiddetti soviet, ovvero i consigli di fabbrica, i consigli di fabbrica che portano appunto gli operai a autogestire, a occupare e autogestire la fabbrica, dalla produzione al sistema produttivo. Ora, il sistema dei soviet, per capire, per comprendere perché in Russia nasce questa idea del controllo dal basso dei centri di produzione, bisogna ricordarsi dell'esperienza delle mir, delle campagne. In ogni caso, con la nascita dei soviet, Nicola II, principe czar, tosso reazionario, è costretto a emanare delle riforme. La riforma più importante è quella della Costituzione, di concedere una Costituzione, e quindi la Costituzione della Duma, il primo Parlamento di stampo liberale che si registra in tutta la storia della Russia. È un Parlamento abbastanza farlocco, fantoccio, perché Nicola II in realtà chiuderà spesso i lavori parlamentari, lo farà ogni qualvolta il Parlamento, prenderà delle decisioni a lui contrarie, comunque in conflitto con quella che è la sua volontà. Comunque la Duma viene istituita, seppur molto debole. La Russia partecipa, come sappiamo, alla Grande Guerra, e di tutti i paesi che partecipano a questo primo conflitto mondiale, è quello che paga in termini di sangue il conto più salato. Perde soltanto, come numerosità dell'esercito, circa 3 milioni di soldati sul fronte, più circa 1 milione e mezzo di civili. Quindi è un conto salatissimo, dovuto principalmente al fatto che Russia ha degli armamenti molto scarsi, soprattutto rispetto alla potentissima vicina Germania, e l'unica sua forza è praticamente quello di avere un numero infinito di uomini da sacrificare, e che vengono letteralmente sacrificati. L'esercito russo, ma in generale la società russa, pagherà questo sacrificio, sarà disposta a pagare questo sacrificio soltanto fino agli inizi del 1917, quando, come in altri paesi europei, una lunga serie di scioperi di fatto bloccano la produzione industriale. Per un paese così fortemente impegnato al fronte, il blocco della produzione industriale, come possiamo immaginare, rappresenta un grossissimo problema, di fatto rappresenterebbe il capitombolo dell'esercito al fronte, che mancherebbe di approvvigionamento. Questi scioperi quindi porteranno al tentativo da parte di Nicola II di reprimerlo, richiamando tra l'altro l'esercito dal fronte, ma di fatto le scioperi resisteranno, resisteranno dal punto che l'esercito stesso disobbedirà allo zar e la stessa flotta, la flotta di Kronstadt, farà mutinamento proprio in difesa degli scioperanti, dei soviet che sono tornati a controllare le fabbriche. Nicola II è costretto ad abdicare, è la fine dell'uzarismo in Russia e il governo viene preso provvisoriamente dal principe moderato Libob. Quindi si dà inizio a un governo di stampo liberale moderato con lo scopo di continuare la guerra, prima di tutto, e poi di trasformare con una costituente l'impero russo in una repubblica, o comunque in una monarchia, o al limite sia una monarchia in un governo moderato. Questo sarà da vedere a seconda della costituente qualora verrà fatta, poi in realtà vedremo, non arriveremo a farla. Perché? Perché il paese sostanzialmente si trova spaccato a metà. Da una parte abbiamo il governo reale, il governo formale della Duma, quello che ha il potere politico. Dall'altro abbiamo il governo reale, quello dei soviet, quello dei lavoratori che hanno occupato le fabbriche in città, o che hanno occupato le campagne in campagna, appunto, hanno occupato i centri produttivi agricoli. Quindi, se il governo reale è quello dei soviet, bisogna andare a vedere chi governa i soviet. Ora, in questa nostra sintesi, prenderemo in considerazione soltanto il partito socialdemocratico. Non tanto perché questa avesse la maggioranza nei soviet, perché nelle campagne non era vero, c'erano altre forze politiche, ma perché il partito socialdemocratico è forte nei soviet, di città che vi diranno il futuro della rivoluzione. E il partito socialdemocratico è diviso in due correnti. Bolshevichi, dalla parte, che sono qui leader Lenin, il cui obiettivo è quello di raggiungere subito la rivoluzione, quindi quello di far durare questa rivoluzione di febbraio, la rivoluzione liberale il meno possibile, ma di trasformare immediatamente la rivoluzione in una dittatura del proletariato, dove sarà compito del partito essere all'avanguardia, essere il motore, l'educatore delle masse popolari al fine di adeguarsi loro alla rivoluzione, non essere gli operai il motore della rivoluzione, ma essere coloro che devono essere educati dalla rivoluzione, quindi da coloro che sono i rivoluzionari di professione, i componenti e i quadri del partito. Dall'altra invece ci sono i mencevichi, i quali, detti anche marxisti ortodossi, prevedono di trasformare prima la Russia in un paese liberale, probabilmente una repubblica e non una monarchia, comunque quindi prima di portare a compimento la rivoluzione liberale, una sorta di rivoluzione francese in Russia, poi una volta trasformato il paese in un paese liberale, borghese, quindi capitalista, giungere a quella che è la rivoluzione successiva, naturale, necessaria, secondo le lezioni del capitale di marx, in una dittatura del proletariato. Nell'aprile dello stesso anno la svolta, torna Lenin in Russia, Lenin appunto riconosciuto come leader dei bolshevichi, durante la rivoluzione di febbraio, non si trova in Russia perché si trova in esilio in Svizzera, dove tra l'altro le forze socialisti della seconda internazionale già dal 1916 si stavano riorganizzando per intralciare appunto la guerra o per decidere che cosa fare di questa guerra. È curioso il fatto che Lenin giunge a San Pietroburgo in treno, dentro un treno piombato, quindi nascosto agli occhi dell'opinione pubblica, e lo fa attraversando la Germania. Molto probabilmente i tedeschi lo lasciano passare, proprio nella speranza che giungendo a Mosca, portando quel vento rivoluzionario, portando a fondo la rivoluzione di filo bolshevico, appunto filo comunista, potesse intralciare le operazioni militari russe, sapendo benissimo che l'obiettivo di Lenin era quello di portare la Russia fuori dal conflitto. Quindi i tedeschi usano Lenin per indebolire il nemico russo. E Lenin questo farà, perché una volta giunto a San Pietroburgo, il suo obiettivo, così come riassunto nelle tesi di aprile, sarà sostanzialmente uno, tutto il potere è Soviet, quindi il non riconoscimento del governo provvisorio della Duma, di Libov prima e di Kerensky dopo, quando Libov si dimetterà, ma di trasferire direttamente il potere ai Soviet, che a loro volta dunque si organizzeranno, si organizzeranno in una forma guidata dal partito, dal partito comunista sovietico, il Pkus, che nel frattempo sposterà la capitale da San Pietroburgo a Mosca. E approfittando di un momento di debolezza del governo a causa del fatto che, essendo la Russia ancora in guerra, stava subendo, in realtà non delle vere e proprie sconfitte militari, perché con l'arrivo degli Stati Uniti in guerra, la campagna militare russa non subisce delle vere e proprie sconfitte, ma sicuramente subisce delle grosse defezioni da parte dei contadini, che abbandonano il fronte, disertano, e quindi il governo si indebolisce e tentò anche, tra l'altro, col generale Kornilov un colpo di Stato. E approfittando quindi di questa confusione ai vertici del governo, il 24 ottobre Lenin, guidando il partito polscevico, circa 40.000 uomini armati, assalta il Palazzo d'Inverno, sempre a San Pietroburgo, che era la residenza invernale dell'Izzar e in questo momento era usata dal governo come sede provvisoria. E di fatto i bolscevichi fanno un colpo di Stato, fanno un colpo di Stato tanto che i suoi partner di rivoluzione, i bolscevichi, li abbandonano in questa operazione, lasciando ai bolscevichi tutta la guida dell'operazione. Che cosa fa una volta giunto al potere, quindi al controllo del paese? Tanto diventa un presidente di una repubblica socialista, seppur ancora provvisoria. E attua dei primi decreti, chiamati decreti rivoluzionari, che sostanzialmente consta di questi tre punti. Uscita dalla guerra, immediata, anche se poi il Trattato di Pace sarà siglato il 3 marzo dell'anno successivo, con il fatto di Bresley-Tosk. Poi evoluzione della proprietà privata della terra, e divieto di manodopera salariata. Successivamente dunque si apparecchiano le elezioni per la Costituente, quelle elezioni che già il governo provvisorio liberale aveva programmato, ma che non si erano ancora tenute, finalmente adesso si tengono, e i bolscevichi clamorosamente perdono, non ottengono la maggioranza, la maggioranza l'ottengono i socialisti rivoluzionari delle campagne. Ma Lenin, che è ormai presidente di questa repubblica, non riconosce le elezioni, scioglie il Parlamento, e di fatto istituisce la dittatura e il politariato, ponendosi come obiettivo quello di eliminare tutti coloro che vengono dichiarati nemici della rivoluzione, istituendo tra l'altro una commissione per la lotta contro la controrivoluzione, che si chiama CECA, che sostanzialmente poi diventerà una sorta di polizia segreta, istituendo quello che per la rivoluzione russa diventa una sorta di parallelo con il terrore, il gran terrore di Robespierre nella rivoluzione francese. I nemici della rivoluzione che sono sia interni che esterni. Gli interni sono ovviamente tutti coloro che o direttamente, in modo dichiarato, o perché così giudicati da questa commissione, sono per un ritorno allo zarismo o comunque mettere un freno al compimento della rivoluzione comunista. In particolare tra i nemici interni riconosciamo i generali che propugnano un ritorno allo zarismo organizzandosi in un vero e proprio esercito, quella che verrà chiamata l'armata bianca, che dal sud della Russia tentano di raggiungere la capitale. Tra l'altro spalleggiati da potenze, da un supporto logistico e militare di alcune potenze straniere che finita la guerra avranno come obiettivo appunto quello di impedire l'espansione del bolshevismo anche nel resto dell'Europa. Ricordiamoci che siamo nel 1919-1920, quello che in Europa verrà chiamato Biagno Rosso, ovvero le possibili, probabili, o tentate rivoluzioni di stampo sovietico, quindi ispirate alla Russia, la rivoluzione russa del 1917, che tenteranno di rovesciare i governi liberali dei rispettivi paesi, tra l'altro paesi distrutti dalla guerra, usciti, distrutti dal conflitto della Prima Guerra Mondiale, sia vincenti che vincitori. Quindi il pericolo del bolshevismo è un pericolo che aleggia in tutta Europa, è un fantasma che atterrisce i governi di tutta Europa e quindi fermarlo in Russia diventa prioritario per tutte le potenze europee. Dunque si scatena una vera e propria guerra civile, dove non solo russi contro russi, ma russi contro russi appoggiati da potenze straniere, che può essere soffocata questa guerra civile soltanto in due modi. Da una parte istituendo un vero e proprio comunismo di guerra, di cui punti salienti sono qui elencati. Dall'altra, istituendo un vero e proprio esercito popolare che sarà guidato da Trotsky, l'armata rossa. Trotsky che, grazie alla vittoria che otterrà in questa guerra civile, sarà disegnato come un vero e proprio eroe della rivoluzione. Allo scopo di difendere la rivoluzione russa, nel 1919, Lenin ha anche l'idea di istituire una nuova internazionale, la cosiddetta internazionale comunista o terza internazionale. Ora, in questa internazionale a cui possono accedere, possono partecipare soltanto i partiti che si riconoscono nel bolshevismo, quindi partiti che il resto d'Europa prenderanno il nome di partiti comunisti, ha in realtà al suo interno due correnti, qui si riconoscono due correnti nettamente distinte. Da una parte è quella che propugna la salvaguardia del comunismo soltanto in Russia, quindi la corrente del comunismo in un solo paese ed è la corrente capeggiata da Stalin. Il compito della terza internazionale per Stalin è usare le forze di opposizione, le forze comuniste all'interno dei paesi capitalisti per distrarre l'interesse di questi rispettivi paesi nei confronti della rivoluzione russa, ma preoccuparsi soltanto del rischio comunista, della rivoluzione comunista all'interno del proprio paese. L'altra direttiva, l'altra direttrice è quella invece di Trotsky che propugna invece il modello della rivoluzione permanente. La rivoluzione non finisce finché la rivoluzione non è mondiale, non si può isolare una rivoluzione all'interno dei confini di un solo paese, quindi è necessario che la terza internazionale abbia come obiettivo quello di far scoppiare e guidare, possibilmente sostenere, le rivoluzioni di tipo comunista sovietico anche negli altri paesi. In particolare Trotsky guarderà alla Germania, il paese capitalista per eccellenza che come sappiamo o sapremo nel 1919 uscita, sconfitta dalla guerra sarà proprio uno di quei paesi dove il partito comunista sarà particolarmente forte. Il partito comunista ha guidato tra l'altro la Rosa Luxemburg una delle eroine della seconda internazionale. Questa rivoluzione tedesca poi come vedremo fallirà e quindi la posizione di Trotsky si indebolirà a favore di quella di Stalin che come sappiamo guiderà il paese non a caso russo nel futuro alla morte di Stalin. Comunque una volta finita la guerra civile è stroncato l'ultimo tentativo di insurrezione nei confronti del bolshevismo che è il nuovo ammutinamento la nuova insurrezione di Kronstadt i marinai di Kronstadt i quali ritenevano che la dittatura e il proletariato di Lenin fosse troppo dura avrebbero preferito un socialismo più libertario si rende conto Lenin una volta innesima insurrezione che il paese è sull'orlo di una debacle di un disastro economico e quindi sostituisce il suo modello economico del comunismo di guerra con quella che si chiamerà nuova politica economica introducendo una parvenza di liberalismo economico quindi permettendo soprattutto nelle campagne allo scopo di incentivare il lavoro dei contadini un minimo di economia di mercato quindi di proprietà privata in modo appunto che i contadini si impegnassero di più nella produzione poiché nel comunismo di guerra tutto ciò che veniva prodotto veniva nazionalizzato e quindi l'incentivo a una massimizzazione della produzione era ovviamente negato finalmente nel 1922 a costo di milioni e milioni di morti tra la guerra la grande guerra la guerra civile le carestie provocate da questo comunismo di guerra particolare finalmente si dicevo si giunge alla nascita dell'apparato statale vero e proprio il cui compito la cui guida sarà appunto del partito comunista e questo paese prenderà il nome di unione delle repubbliche socialiste sovietiche o unione sovietica più velocemente detta due anni successivi due anni dopo Lenin muore con la morte di Lenin il sogno di Lenin o l'incubo per qualcuno si infrange quasi subito perché all'interno del partito nella segreteria nelle stanze segrete del partito iniziano a avere propria lotta di successione tra quelli che erano i due leader delle due correnti che già avevano spaccato a metà la direzione della terza internazionale appunto Stalin e Prowski ma questo è un altro punto è un altro episodio ma questa è un'altra puntata qui in fondo ho messo una mappa concettuale che può essere abbastanza utile per riassumere arrivederci grazie a tutti